Spiazza in questo libro è questa. Questo è un libro scritto da un tedesco che sta facendo la guerra contro gli americani e svela, crede lui, la intrinseca, come dire, ipocrisia dei concetti democratici occidentali. Anzi, del concetto di occidente. Per questo, questo libro, nazista, para-nazista, è il libro preferito di tutti i critici delle amministrazioni USA degli ultimi anni. Per cui c'è questo dato all'inizio scioccante, poi ci si abitua, per cui i miei cari amici di sinistra giurano sul nomos della terra di Karl Schmitt. Dice, lo dice Karl Schmitt, ho capito, lo dice Karl Schmitt, però lo diceva, non è che dica solo delle cose false o ideologiche, però va capito che quando parlava era uno che stava facendo la guerra contro gli americani su questo tema, che cosa vuol dire noi. Per gli americani noi vuol dire l'Occidente liberal-democratico. Schmitt stava con quelli per i quali noi non voleva dire l'Occidente liberal-democratico. Certo, in questo momento di crisi, come sempre nei momenti di crisi, c'è il massimo di possibilità di comprensione. Non si capisce niente del concetto di Occidente se non si sa che esso, un bel dì, nacque. E quando nacque, nacque perché serviva a qualche cosa. Non c'è sempre stato il concetto di Occidente. Ecco, quelli che vengono pensati come i capostipiti dell'Occidente, non lo sapevano di esserlo. Cioè, Kant non si è mai sognato di definirsi occidentale. Ecco, tanto per essere precisi. E neanche Locke. Per loro l'Occidente era l'America, cioè un paese pieno di selvaggi che andavano bene a fare gli schiavi. non erano occidentali, erano europei. Il concetto di Occidente è il contrario del concetto di Europa. È un'arma americana contro l'Europa. Peggio per l'Europa che ha fornito agli Stati Uniti le motivazioni per armare contro l'Europa il concetto di Occidente. Schmitt ci ha passato la vita a spiegare questo. Si mangiava il cappello dalla rabbia, ma non c'era niente da fare. Non si possono perdere le guerre mondiali e poi pretendere di conservare il monopolio sul senso comune. Nel senso comune, anche quello scientifico, segue i vincitori. C'è niente da fare. L'Europa ha perso e l'Occidente ha vinto. Ma l'Occidente è una dottrina americana, la dottrina dell'emisfero occidentale, di Monroe. Cioè, siamo agli anni 30 del 1800, ed è una dottrina assolutamente difensiva, grazie alla quale gli Stati Uniti istituiscono un'area vietata alla intrusione delle potenze europee, le quali potenze europee, dopo aver fatto fuori Napoleone, stanno tentando di restaurare l'anzian regime. E allora gli americani temono che la Spagna tenti di riprendersi le colonie dell'impero ex spagnolo, che nel frattempo, dagli anni dieci in avanti, sono diventate indipendenti. E per non vedersi sbarcare dai galeoni spagnoli, dei soldati, magari anche inglesi e francesi, in aiuto, che si riprendono gli imperi coloniali in Occidente, si inventa, con il Presidente Monroe e con interpretazioni di poco successive, il concetto di emisfero occidentale, come emisfero in cui gli europei, vecchi, corrotti, dispotici, non possono entrare. La storia dell'emisfero occidentale è la storia dello spostamento di una linea che a un certo punto passa, entra a metà oceano atlantico, poi si sposta, sostanzialmente segue Eisenhower, si sposta e poi va a sbattere contro i russi, che arrivano dall'altra parte. Quello è l'emisfero occidentale, cioè l'area in cui comandano gli americani. L'area in cui tutto ciò che avviene viene valutato dagli Stati Uniti come qualcosa che deve essere interpretato alla luce degli interessi americani. Per cui, a un certo punto nel 1941, la linea dell'Occidente incorpora l'Islanda, perché l'Islanda è fondamentale, per tenere l'Atlantico devi tenere l'Islanda. E allora i sottomarini tedeschi che passano la linea occidentale, stanno facendo qualche cosa di estremamente sgradito agli Stati Uniti. Questo è l'Occidente. E l'Occidente è indeterminato. Schmidt dice, non esiste un Polo Oeste.